ciao popolo allora oggi non si parla di affilatura ma oggi voglio parlarvi un po ma poco 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 degli strumenti ottici che ci possono aiutare in affilatura dalla lentina al bel microscopio però come al solito ormai lo sapete sigla eccomi allora video veloce solamente per fare una breve panoramica e dare forse spero qualche consiglio per gli acquisti fondamentalmente per il consiglio sui non acquisti su qualche lente le più diffuse sul mercato e ognuna con i propri pregi i propri difetti è più o meno la fascia di prezzo più o meno andiamo veloci allora io partirei con una un tipo d'ausilio forse poco utilizzato ma che costa poco ed è comodo parliamo di una lentina 20 per quindi veramente il minimo dell'ingrandimento possibile però guardate qui fatta a forma di occhiale io questa l'ho usata spesso all'inizio con questo sistema cioè alzavo una lente così da utilizzarne una sola e avere qui l'occhio libero perché anche queste lenti a fuoco fisso aspettate prendo un rasoio queste lentine qui a fuoco fisso purtroppo hanno un punto di messa a fuoco molto molto vicino ecco diciamo che è questo vedere per cui avere un altro occhio libero fa comodo per non perdere completamente la coniezione ecco vedere che già faccio fatica a richiudere il rasoio quindi questa è una lente presa nel classico negozio dei cinesi forse prezzo intorno ai 10 euro e voglio dire per le prime osservazioni ravvicinate per la prima ispezione del filo quando uno è magari alle prime armi non sa neanche bene che cosa aspettarsi da dall'osservazione del filo io penso che questa possa essere un qualcosa di di comodo uno se la tiene magari sempre inforcata alzare lenti devo ottenere sempre con le lenti tutte due magari alzate all'occorrenza ne abbassa uno io l'ho trovata utile e devo dire che per quel prezzo l'ho vista sopra lo scaffale di un cinese 10 euro fai per 10 euro non provi cioè se prova se ne buttano tanti però diciamo è poco più di un giocattolo poi passiamo a una lentina ottica carina che io veramente consiglio ancora l'ultima volta l'ho usata sabato ecco questa è una lentina da avere sempre in tasca guardate quanto è piccola è un 60 per fisso vedete penso proprio di sì ora sto dicendo è un 60 per fisso una pilettina di batterie di quelle a pasticca doppia illuminazione illuminazione normale e loro pomposamente dicono illuminazione infrarossi non so se si vede un celestino appena accennato ma quali infrarossi sa voglio dire ha la sua bella illuminazione simpatica leggermente orientabile niente di particolare è un 60 ingrandimenti anche questa utilizzo molto intuitivo il prezzo sinceramente non ve lo so dire ma pure qui parliamo di veramente di pochi di pochissimi euro qualcosa più di 10 euro anche questa forse 20 ma sono sono secoli che ce l'ho per cui adesso non vi saprei dire ecco questa secondo me è una lentina da avere perché non non si è legati non è un microscopio usb per cui uno è legato a un monitor a uno schermo con qualcosa da utilizzare solo in casa il massimo della portabilità guardare su una mano veramente sparisce qualche cosa di molto molto piccolo una buona qualità ottica la sto continuando a far vedere perché purtroppo non conosco marca e modello non c'è neanche scritto però magari la riconoscete dalla forma per quello insisto a farvela vedere se vedete qualche cosa del genere va sicuro che questa può essere una buona soluzione un ingrandimento da 60 per poi quanto sia reale non ve lo so dire comunque la qualità è ottica buona l'immagine che riproduce è nitida e ben dettagliata per cui io ancora questa quando non sono in casa me la porto me la metto in tasca ha la sua utilità per cui consigliabile sì il passo successivo nell'acquisto potrebbe essere invece qualche cosa tipo questo ve lo dico subito questo è già stato modificato nel senso che qui c'era un plexiglass trasparente a protezione della lente io per guadagnare qualche altro millimetro per poter avvicinare di qualche altro millimetro l'obiettivo al filo quindi avere un ingrandimento maggiore io l'ho tolto è questo sulla falsariga di quest'altro lentina ottica però questa ad ingrandimento variabile loro oppure qui pomposamente mettono da 60 a 120 ingrandimenti tramite questa ghiera aspettate perché qui vedo di inquadrarla un po meglio ma stavolta messa a fuoco non mi viene in aiuto eccola qua vedete qui a 120 dove eccola qua si sposta quindi partenza da 60 60 120 ingrandimenti a che poi essendo uno strumento che si utilizza a mano diciamo che utilizzabile solo a 60 perché con ingrandimenti maggiori c'è bisogno di andare in appoggio altrimenti le vibrazioni per quanto uno vuole voglia avere la mano ferma questa ossia va appoggiare direttamente sulla costa del rasoio altrimenti 120 ingrandimenti a mano libera non si tengono nel mal di testa guardandoci dentro anche questa ha la sua illuminazione quindi uno strumento molto semplice a batteria illuminazione questa non è una ghiera di messa a fuoco vorrebbe essere una ghiera di messa a fuoco ma è assolutamente inutile qui per la messa a fuoco meglio giocare con la distanza tra la lentina e il filo perché mettere a fuoco con una ghiera significa avere questo fermo a una distanza fissa da ciò che vogliamo ingrandire visto che la distanza fissa non c'è perché è impugnata a mano libera usare questa messa a fuoco è totalmente inutile è impossibile per cui voglio dire è ancora portatile insieme alle pietre insieme a una borsa da portare può anche decidere per uno strumento del genere onestamente parlando tra la qualità ottica di questo e la qualità ottica di questo freschettino piccolo io ancora preferisco questo sono molto molto simili per carità non è che questo ha comprato e questo no o contrario questo vi consiglia un buon acquisto prendendolo e questo no diciamo che sono molto molto simili a questo punto qui c'è maggiore maneggiovolezza qui un po di meno questa è un'ottica fissa per cui forse ecco quella nitidezza in più è proprio perché l'ottica è fissa questa è un'ottica variabile invece è forse questa lente che si muove in avanti e indietro ti fa un po perdere di nitidezza ti fa perdere con più facilità il punto di messa a fuoco per cui diciamo io tra le due mi so che anche stiamo parlando di una spesa molto molto simile il mio consiglio è qualcosa del genere poi io consiglio ma alla fine ognuno è proprietario del proprio portafoglio adesso viene il primo microscopietto usb che io ho preso e che tranquillamente lo posso dire in tutta coscienza vi dico non compratelo che non è che uno deve fare vedere solo le le ciambelle che sono riuscite col buco ecco sono in mano ma sto spippacchiando tante ciambelle riescono senza buco ma io le faccio vedere perché non c'ho vergogna di niente avete presente questo tipo di microscopio usb anche qui ci dove essere un pezzo di plexiglass trasparente a protezione dell'obiettivo io l'ho levato sempre per cercare di andare più vicino possibile ecco signore e signori questo non serve assolutamente a niente qualità ottica ottica fetente ma veramente fetente illuminazione fetente veramente fetente ingrandimenti pure qui guardate pomposamente scrivono da 40 a 1000 poi ve lo faccio vedere il microscopio che lì vi voglio dare una mano sull'acquisto dei dei prezzi che non arriva a mille arriva a 400 ma bisogna spendere 500 volte quanto costa questo quindi questo anzi questa tipologia di di microscopietto usb tranne uno di ottima marca della dino light americana che costa uno sproposito cioè stiamo parlando di un fresco del genere ma che costa mille euro ecco quello però funziona tutta questa serie di cinesate di microscopio usb fatti così a supposta ecco sono delle grandi supposte la prendete riccamente in quel posto se ve le andate a comprare a prescindere dalla marca perché poi sono tutti uguali non servono veramente a niente si attaccate al computer si qualche cosa fanno vedere ma ottica schifosa qualità schifosa poi qui c'è bisogno di un supportino per poterlo reggere supportini che al primo soffio di vento se ne vanno tranquillamente per cui alla fine ma neanche quando c'è il black friday non vi fate tentare da soluzioni del genere consiglio mio se dovete prendere questo fate meglio prima con quest'altro certo questo è usb quindi questo è il primo gradino diciamo magari per la condivisione questo visto che è attaccato a un computer allora potete farvi col vostro programma il fermo immagine scattare la foto poi farla vedere sul vostro gruppo d'affilatura sul gruppo social ma sono veramente delle pessime immagini a una risoluzione pessima quindi già io ho dedicato troppo tempo via adesso vi voglio fare vedere un microscopietto prima di passare a darvi qualche consiglio per acquistarne uno migliore un microscopietto a cui io sono molto affezionato e quelli che mi seguono da più tempo già lo conoscono questo è un altro microscopietto usb in questo momento il cavo ce l'ho staccato microscopietto usb con il suo monitor da 7 pollici ecco questa è stata diciamo per me la svolta nell'ispezione visiva e anche la svolta diciamo nel nel social perché sono riuscito a tirare fuori buone foto buoni filmati così da poterli far vedere poterci discutere un pochettino sopra ve lo continuo a fare vedere così magari si vede anche la marca allora questa è di una comodità impressionante intanto viene subito riconosciuto da qualsiasi programma di sharing ecco io uso sempre o bs studio premetti il cavo usb lo attacchi al computer e viene riconosciuto subito come una webcam per cui non c'è nessun problema di installazione è comodissimo perché comunque avendo un suo schermo da 7 pollici lo posso usare lo potevo usare anche senza dover accendere il computer l'immagine me la mandavo direttamente sullo schermo quindi usavo solo lui computer spento comodissima la regolazione questa è la messa a fuoco quindi tanta tanta roba come tutti i microscopi di questo tipo l'ingrandimento si dà sul saliscendi più si avvicina all'obiettivo alla cosa che vogliamo inquadrare più aumenta l'ingrandimento più l'alziamo sulla colonnina del saliscendi che chiaramente adesso non c'è e poi scoprirete per quale motivo e quindi alzandolo si riduce l'ingrandimento abbassandolo si ingrandisce di più e dopo di che la messa a fuoco si regola con questo tutti i vari tastini per le impostazioni quindi niente divertimento molto semplice da usare ripeto questo ha il vantaggio di poter essere usato da solo senza computer o via usb collegato con il computer per cui lo scatto della foto la registrazione del filmatino ma ripeto può essere usato anche da solo perché vedete è rimasto ancora dentro ha la possibilità di alloggiare vediamo se ce la faccio ma sto senza unghie eh no non ce la faccio è rimasta dentro incassata comunque c'è una micro sd non so se riusciva a vedere quella bianca che si vede per cui anche da solo anche senza computer si possono scattare foto e video che vengono memorizzate qua sulla micro sd altrimenti mettendo il cavo un cavo micro usb si va al computer e viene salvato tutto direttamente su una cartella che si può selezionare bla 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 con questo ci ho passato tanto tempo e devo dire è stato un buono strumento non il massimo della della vita ma comunque un buono strumento l'unica pecca l'unica l'illuminazione tutte le volte che voi vedere questa illuminazione cominciate a storcere il naso perché i led a prescindere dalla potenza possono essere anche di potenza sufficiente ma tutte le volte che voi vedete i led molto molto vicini all'obiettivo significa che fanno una luce praticamente parallela all'ottica e non c'è nessuna tridimensionalità nell'immagine che restituisce poi eh l'obiettivo poverello eh un'immagine piatta molto piatta poco contrastata e allora molti se lo ricorderanno i più i più affezionati io qui avevo completamente spento questi led e comprata una luce esterna che mettevo di traverso quasi parallela al filo del rasoio per avere quel po di tridimensionalità in più la luce molto bassa e radente praticamente passava sopra i marchi di affilatura e lì chiaramente non poteva entrare nel marchio di affilatura lì faceva vedere eh insomma alla fine giocando con le luci c'ero pure riuscito avere eh discrete immagini chiaramente con la luce da un lato il fotogramma era un po' più illuminato da una parte un po' meno illuminato da parte dall'altra seconda seconda critica secondo appunto che vuole essere solo un appunto ma non una critica anche qui i cinesi si divertono tanto a magnificare ingrandimenti questo viene venduto come un 1200 per se arriva a 200 250 è grasso che cola perché il cinese furbo che cosa fa non ti dice qual è il vero ingrandimento ottico ti dice l'ingrandimento che tu a cui tu puoi arrivare però sì io posso arrivare a un certo ingrandimento ma qui c'erano almeno quattro ingrandimenti digitali quindi una volta regolato eh l'ottica una volta messa a fuoco io poi potevo digitalmente per due per tre per quattro capite bene che l'immagine ingrandimento digitale è una monnezza che non finisce mai praticamente inutilizzabile per cui bisogna andare solo e soltanto con gli ingrandimenti ottici qualità ragazzi qui stiamo parlando di 100 euro qualità da 100 euro che poi se ce ne vate il la basetta ce ne vate il monitore da 7 pollici una cosa un'altra levate il guadagno di quello che me l'ha venduta ma capite da soli che la distanza focale di questo obiettivo la lunghezza focale di questo obiettivo è quella che è però comunque vi ripeto se proprio proprio volete cominciare senza investire grosse cifre per vedere se poi l'affilatura con il microscopio le indagini al microscopio sul filo vi piacciono non vi piacciono sono roba per voi o non è roba per voi ecco io questo tranquillo tranquillo ve lo posso consigliare ce ne sanno tanti modelli che sono tutti cugini carnali tra di loro per cui suppongo pure tutto lascia pensare che escano tutti quanti dalla stessa fabbrica e poi vengono rimarchiati a secondo del dell'acquirente ha ordinato il pezzo quindi microscopio usb con il suo schermo dal da 7 pollici sinceramente lo posso consigliare tranquillamente senza paura che qualcuno che bussi la porta ma hai fatto spendere sti sordi e insomma fa il suo onesto mestiere ve lo ripeto per l'ultima volta appunto di vantaggio che può essere utilizzato da solo avendo la sua scheda di memoria e avendo il suo monitor da 7 pollici oppure collegato a un computer ma non è obbligato all'uso col computer quindi c'ha la doppia funzione ho detto questo arriviamo al microscopio scusate che sto usando lo vedete adesso qui di lato messo una piccola web cam per inquadrarlo perché ne parliamo un attimo il microscopio che sto utilizzando in questo momento eccolo qua un po sbilenca la webcam però spero che si capisce spero che si capisca scusate perché ve lo voglio fare vedere già io ho fatto un piccolo video perché questa volta voglio cercare di aiutarvi nell'acquisto nel senso ci sono già dei kit ci sono già kit belli e pronti di questa tipologia di microscopio che non vi consiglio di comprare perché c'è quel prezzo quello che frega un prezzo di invito allettante quasi quasi io ci provo risparmio un po attenzione che ci sono grossissime possibilità di buttare i soldi io questo così come lo vedete l'ho comprato assemblandolo pezzo per pezzo i pezzi fondamentali pezzi costituitivi di un microscopio del genere che lo chiamano composamente microscopio industriale perché viene usato molto spesso per le riparazioni dei piccoli circuiti stampati dei cellulari quindi è un microscopio da lavoro ma fondamentalmente si compone di un supporto di una camera digitale che è questa di un obiettivo e di un sistema di illuminazione queste sono le parti costitutive per ogni parte deve avere la sua peculiarità specifica e non sempre in questi kit già preassemblati ogni singolo pezzo soddisfa le esigenze magari ti mettono un supporto buono e una camera digitale scadente o una buona camera digitale un obiettivo che non è che abbia tutta questa nititezza tutta sta risoluzione oppure l'illuminazione che va o non va comunque tra i quattro pezzi che compongono il il puzzle c'è sempre un anello debole perché se no non si spiega il perché i pezzi singoli costino molto di più rispetto al kit allora io adesso vi voglio dare solamente dei consigli non vi voglio dire comprate questo o comprate quest'altro vi voglio dare pochi 4 5 piccoli consigli basati sull'esperienza che ho fatto io e purtroppo l'ho fatto a mie spese perché molti di questi pezzi li ho dovuti comprare due volte allora proprio perché inesperto vorrei aiutare chi posso ecco a non fare la spesa due volte perché la prima non è andata bene è uscita fuori la ciambella senza buco quindi andiamo veloci perché già il video siamo arrivati 25 minuti ma e sono troppi allora pezzo fondamentale e sempre messo in secondo piano come come ultimo dei problemi come ultimo dei pensieri è il supporto è lo stand è questo quindi il supporto dalla base in ghisa questa pesantissima supporto rigido questi questi tubi sono da tre centimetri forse ecco da qua si riesce a vedere un po' meglio cioè sono tubi molto larghi molto duri la testa che porta l'obiettivo allora questo è il pezzo fondamentale perché quando gli ingrandimenti sono forti la minima vibrazione va a far venire mal di testa oltretutto le foto non vengono messe a fuoco le foto vengono sgranate c'è bisogno dell'immobilità assoluta ok per cui il mio consiglio ripeto questo è il secondo supporto che compro il mio consiglio è spendere sul supporto e purtroppo ve lo dico subito i supporti costano un supportino del genere che rispetto a tanti altri molto semplice voi mi conoscete io sono sempre quello che va cercando il rapporto qualità prezzo più che la prestazione assoluta un supporto di questi con meno di 150 euro non te la cavi però hai una rigidità assoluta non si muove niente e in più c'hai questa testa micrometrica che è fondamentale per salvare la vita come in tutti i microscopi di questa tipologia la messa a fuoco viene fatta alzando e abbassando vedete l'ottica qui ci sono due regolazioni una che va avanti in millimetri e una con una forte demoltiplica io la uso da qui la vedete che invece va avanti a decimi di millimetro guardate aspettate da qui guardate l'obiettivo come si muove è proprio visibilissimo il movimento dell'obiettivo guardate adesso se vado invece solamente sulla ruota demoltiplicata guardate come gira quella ruota la vedete e guardate l'obiettivo forse proprio chi c'ha la vista migliore riesce a vedere il movimento dell'obiettivo in alto o in basso questa è tanta roba per mettere a fuoco tanta tanta roba basta se no qui non arriviamo più secondo punto che costituisce ovviamente l'obiettivo è la camera digitale quindi questa qui ve la dovete immaginare come una volgarissima macchinetta fotografica chiaro molto molto limitata con con un attacco c mount per cui non solo questo tipo di obiettivi può montare qualsiasi obiettivo con l'attacco c che è l'attacco delle videocamere di sorveglianza per esempio e ci sono tanti obiettivi vecchi vintage con questo tipo di attacco c quindi una mini macchina fotografica un sensore un attacco per l'ottica è una piccola schedina elettronica che ti dà la possibilità un piccolo software che ti dà la possibilità di fare quelle regolazioni di base luminosità eccetera eccetera attenzione qui si può risparmiare onestamente si può risparmiare però c'è un limite minimo sotto cui non bisogna scendere e poi si può salire fino all'infinito tanto per darvi un paragone io per risparmiare per esempio ho comprato una camera con il sensore panasonic e i sensori panasonic che ci hanno determinati determinate caratteristiche e determinati prezzi che sono abbastanza abbordabili se questa camera anzi che col sensore panasonic fosse stato col sensore sony sarebbe costata molto molto di più diciamo che queste camere possono partire le potete trovare parlo sempre di grossi siti cinesi per capirsi roba tipo aliexpress una camera del genere la potete trovare a partire anche da poco anche da 70 euro per arrivare a uno zero in più a 700 800 mille quindi a secondo delle caratteristiche del sensore io chiaramente sconsiglio quelle da 70 euro per tutta una serie di modifiche adesso non sto qui a a sindacale così come all'inizio sconsiglio di fare la mega la mega camera digitale in 4k che è capace a registrare in 4k come si dice 4k 60 frame per secondo chi più ne ha più ne metta perché fondamentalmente tutte queste belle prestazioni uno le ha in uscita dalla sua porta hdmi questa nel caso particolare ha due porte con due uscite che possono andare in contemporanea un'uscita usb è un'uscita hdmi ma tutte stavo dicendo tutte queste belle prestazioni ce l'hanno quando l'uscita hdmi è pulita cioè va diretta ad un monitor allora posso vedere la mia bella immagine in 4k posso vedere posso sfruttare il massimo della risoluzione possibile ma 99 su 100 come faccio io l'uscita hdmi poi viene mortificata da mortificata tre virgolette scusate la sto prendendo perché ancora attaccata al cavo viene poi tutte le belle cose vengono vanificate da una scheda di acquisizione aspettate una scheda d'acquisizione video che ti porta il segnale da hdmi a usb e queste ne ho di migliori questa è quella volante per quello potrebbe rendere se no dietro al computer c'è quella dell'elgato con un costo decisamente più importante ma siamo sempre lì poi sono schede di acquisizione video che si fermano al full hd al 1920 x 1080 per cui comprare ritorniamo qua eccola qua comprare una mega camera digitale in grado di fare tantissime cose se poi ripeto io gli metto il suo monitor dedicato a questo microscopio ha un senso allora ben venga la spesa ma preparatevi a far piangere il portafoglio perché ripeto una camera così della sony oppure quantomeno col sensore sony in 4k 60 frame per secondo eccetera eccetera siamo già sui 7 800 euro la cosarella del genere partire da poco sopra i 100 euro per arrivare massimo ai 200 250 insomma anche qui a secondo delle caratteristiche se come questa può avere la doppia uscita contemporanea in hdmi e usb quindi contemporaneamente perché molte camere più economiche ho ho a secondo della risoluzione del sensore questo è un 48 megapixel ma ci sono da 32 ci sono anche da di meno quindi io diciamo vi do un range che può essere poco sopra i 100 euro a poco sopra i 200 diciamo che c'è una bella fetta di mercato e si può andare con soddisfazione via finito terzo punto è anche qui punto dolente anche io questo l'ho comprato due volte la camera non la camera sono andato bene al primo tentativo ha funzionato bene dall'inizio obiettivo questo che vedete è un normalissimo no normalissimo no è un buon obiettivo con l'ingrandimento massimo 400 per dove sta la chicca di questo obiettivo questa ghiera è la ghiera degli ingrandimenti non so se si riesce a vedere vedere quasi legge un 2 eccetera eccetera perché perché due tre quattro l'ingrandimento massimo arriva a 5 perché è un'ottica da 80 ingrandimenti quando è a zero quindi quando è segnata quando questa ghiera è sull'1 rapporto 1 a 1 sono 80 ingrandimenti a 2 sono 160 ingrandimenti a 3 8 6 140 ingrandimenti fino a 5 e sono 80 per circa 400 ingrandimenti quindi a una ghiera degli ingrandimenti del moltiplicato chiamiamolo così il moltiplicatore del fattore di ingrandimento ma di fondamentale ed è quello che fa lievitare il costo a una ghiera della messa a fuoco fine cosa a cui io non rinuncerei mai più praticamente cosa succede anche se poi viene utilizzata una volta sola e qualche volta per fare qualche controllo che succede si mette un qualche cosa sotto si fa la prima regolazione della messa a fuoco alzando e abbassando tutto il blocco si cerca di ottenere il massimo della nitidezza dopodiché si va a correggere con questa ghiera quindi si va a fare la messa a fuoco micrometrica dell'inquadrato quindi si va a tarare per il massimo della nitidezza con questa si accoppia per bene l'obiettivo alla camera una volta quindi cambia il tiraggio i fotografi chi si diretta le fotografie già non ha capito una volta stabilito il giusto tiraggio la giusta distanza tra il gruppo ottico e il sensore io più semplice di così non riesco a dirvela quindi ottenuto il massimo della nitidezza da questa accoppiata dopodiché questa non si deve toccare più questa è regolata per bene tanto è vero che c'è la possibilità tramite una brucola che in questo momento con la luce forse non si vede bene tramite una chiave a brucola di stringerla e tenerla bloccata in posizione da quel momento in poi basterà la messa a fuoco tramite il saliscendi demoltiplicato se poi col passare del tempo uno si accorge che qualche cosa sta cambiando che l'immagine non è più nitida come prima si va di nuovo a risettare per bene il tiraggio sensore obiettivo quindi diciamo che sugli obiettivi voglio starci poco perché è chiaro è intuitivo che gli obiettivi lì fuori ce n'è un mare è chiaro che l'obiettivo con una mente in plastica ci avrà una risoluzione l'obiettivo con gruppi ottici in vetro ce ne avranno altri quindi penso che poi tutti quando parlano in microscopio pensano subito all'obiettivo e la camera e il resto che non viene calcolato con l'attenzione che meritano l'ultimo eppure qui veramente il quarto pezzo costitutivo dell'obiettivo l'illuminazione è chiaro che senza illuminazione si va da nessuna parte allora vi ricordate quando ho parlato di questo io ho detto qui io purtroppo avevo questo tipo di illuminazione l'ho dovuta spegnere trovare una luce esterna ecco con questi anelli led non serve fare tutti questi giochini questi accrocchi perché il diametro rispetto all'obiettivo è molto grande quindi le luci perimetrali sono distanti dall'obiettivo per cui il punto sotto la lente viene illuminato praticamente da due lati non ci sono due lucettine fisse non so se riesco a spiegarvi ma è semplice se io ho un obiettivo che inquadra in un punto quindi una linea verticale e c'ho due luci molto molto vicine tra di loro avrò un'illuminazione proprio parallela a 90 gradi su quel punto e mi restituisce una immagine piatta se io invece ho lo stesso obiettivo che mi inquadra un punto e ho due luci distanti tra di loro l'illuminazione in quel punto non è a 90 gradi ma ha una certa incidenza e che è quello che succede con questo tipo di ring di illuminazione con i ring led quindi mi sono scordato la misura la misura al volo una cosarella sono più o meno 8 cm 8 cm di diametro quindi rispetto al punto centrale rispetto all'obiettivo abbiamo un'illuminazione che è distante 4 cm su ogni lato quindi si crea un cono di luce che altezza 4 cm in orizzontale e va giù ma sto un picciato quindi diciamo qui non c'è bisogno di inventarsi accrocchi accrocchini accrocchetti ci sono luci ce l'ho ma l'ho pure smontata con filtri polarizzatori eccetera eccetera l'unica cosa ecco io ho cercato di spendere un po di più non so se si vede qui dietro eccolo qui qui c'è il controllo separato per l'illuminazione per l'intensità dell'illuminazione ho preferito prenderlo così anziché molte luci ce lo portano direttamente qua per cercare di non toccare l'obiettivo una volta fatta la messa a fuoco quindi mi serve l'immagine più cara più scura agisco voglio vedere se riesco a spostarvela un pochettino eccola qua la vedete quindi io agisco su questa ghiera su questo potenziometro e mi regolo l'illuminazione così non tocco il l'anello quindi non tocco l'obiettivo evito urti evito vibrazioni ma è costata qualche decina d'euro in più ma non è un costo proibitivo calcolate che questi anelli qui quelli scamuffi che come al solito non vi consiglio partono in cina da una ventina di dollari quindi proprio da niente 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 vi consiglio chiaramente una buona illuminazione perché se siete arrivati al punto di fare una cosa del genere di assemblarvela pezzo per pezzo beh certo un'illuminazione adeguata è più che consigliabile ragazzi basta perché l'ho fatta lunga non ci volevo arrivare a 40 minuti volevo fare solamente un piccolo excursus facendovi vedere così l'ultima carrellata dagli occhialini da orologiaio 20 ingrandimenti da una lentina molto portatile molto ben fatta 60 ingrandimenti lentina variabile dai 60 ai 120 ingrandimenti dicono loro ma parliamo sempre di portatile poi entriamo nel campo usb e il munnezzon il suppostone che lasciatelo dov'è perché se non sapete benissimo le supposte dove vanno a finire quindi questa cosa non vi non ve la consiglio a meno che ripeto non sia di ottima marca ma purtroppo l'unica è quella americana la dino light che ha un costo veramente proibitivo però funziona è veramente una bella ottica e quindi siamo entrati nel campo del microscopio usb fino a un modello versatile molto molto versatile con questo mi ha fatto compagnia per almeno un paio d'anni se non di più non mi ricordo comunque con la comodità di essere usato stand alone da solo perché ha il suo bel monitor da 7 pollici oppure ve lo collegate in usb al vostro computer per cui avete anche tutta la parte social avete le foto avete le immagini in tempo reale viene riconosciuto come una webcam fino poi arrivare all'evoluzione della specie qui devo cambiare devo mettere la webcam abbiamo il microscopio assemblato pezzo pezzo quindi nelle quattro componenti costitutive fondamentali il supporto la camera digitale l'obiettivo l'illuminazione vorrei essere solamente consigli per gli acquisti e in particolar modo per il microscopio assemblato perché comunque anche con i prezzi cinesi qui è un piccolo investimento insomma un investimento che può pesare sul portafoglio per quello ci tenevo a dirvi occhio a questo occhio a quest'altro il resto il resto le mie preferite se è capito tra le lenti portatili sicuramente questo modello 60 ingrandimenti non saranno 60 saranno 40 saranno quelle che sono però una buona ottica una buona risoluzione una bella portabilità questa nata del taschino dei jeans proprio e ve l'ascoltate e tra gli entry level usb via i suppostoni un qualcosa del genere sicuramente risituisce una buona immagine sicuramente è comodo in affilatura pigra come come le mie se lo metti la sopra la schiavania affili strofini sulle pietre senza manco sta a perdere troppo tempo prendi il rasoio lo schiaffi là sotto fa mettere in posto filo e l'immagine che restituisce è onesta mettiamola così è onesta ragazzi non lo so se a qualcuno poteva interessare o se avete già come al solito tagliato tutto dopo il terzo minuto di divisione oggi girava così questo mi girava e questo registrato per cui come al solito arrivato a questo punto sono stavo guardando dove il bottone del speaker a questo punto un saluto a tutti quanti un ciao popolo a tutti quanti ci vediamo al prossimo video ciao popolo